Io metto al centro di tutto la passione e quando Antonello faceva riferimento che siamo sempre quattro persone, sempre vicino alla gente, tra la gente, noi lo facciamo con passione. Tutti quanti noi effettivamente siamo vicino alle persone, questo è un dato importante. Siamo un partito, otterremo sicuramente un risultato straordinario sul piano regionale e innanzitutto sul piano provinciale. Io lancio la sfida, noi carissimo Benamino saremo il secondo partito della coalizione sul piano regionale. Avremo una battuglia di consiglieri regionali che si muoveranno vicino alle persone. Dobbiamo recuperare quello che si è perso a causa del sistema elettorale. Guardate, io vi dico la verità, io i parlamentari del nostro territorio non li conosco, non li ho mai visti vicino alle persone, tranne per qualche intervento sui giornali, criticando questo e quello, senza avere la contezza delle persone, il calore delle persone, capire quali sono i problemi delle persone, anche per capire e fare meglio il proprio ruolo in consiglio regionale. Avremo una filiera sicuramente completa, piano nazionale, piano regionale, piano provinciale e tanti amici e tanti comuni, sindaci e amministratori che sosterranno questo progetto. siamo convinti di fare bene nell'interesse di tutta la comunità ispina e dell'intera regione Campania. Grazie a tutti.